Benvenuti alle teorie di Darwin, protagonisti che raccontano e si raccontano. Io sono particolarmente felice perché è venuto a trovarmi Diego Novelli, sindaco di Torino dal 1975 al 1985, giornalista, scrittore, parlamentare, comunista, tifoso del Torino, presidente dell'AMPI per la regione Piemonte, direttore Nuova Società Online. Ciao Diego. Ciao. Senti, la Nuova Società Online è un settimanale tutti i giorni? È un settimanale che esce tutti i giorni, cioè una volta alla settimana facciamo il settimanale, però tutti i giorni viene rinfrescato con le notizie o i commenti, i corsivi. C'è un gruppetto di giovani bravissimi, volontari e un redattore capo squisito in gamba, che è Andrea Doi, lui ha già una quarantina d'anni. Beh, è ancora un ragazzo. Sì, sì, ma secondo le teorie. Ah, ecco. Allora, vediamo, beh, raccontare la storia di Diego Novelli in cinque fotografie è un'impresa, però la scelta è Diego, noi cominciamo con la prima e tu sei in questa fotografia con Enrico Berlinguer. Quindi vuol dire parlare del Partito Comunista, di un segretario che fece della questione morale una bandiera. Ecco, cosa è rimasto di quell'esperienza politica e di quella figura carismatica? Beh, di quell'esperienza politica sono rimaste le radici, diciamo, che quelle non si disperdono mai, si sono un po' così propagate, però ci si è voluto a tutti i costi. Anzi, proprio in queste ore, con una campagna mediatica, si cerca proprio di estirpare dal Partito Democratico quella componente culturale, molare, politica riferita al Partito Comunista italiano e in modo particolare ad Enrico Berlinguer, che lui lanciò l'appello, l'allarme sulla questione morale nel 1981 con una profetica intervista ad Eugenio Scalfari su Repubblica. Tu hai scritto anche come era bello il mio PC, quindi è una nostalgia, è una memoria. Io non amo la nostalgia perché lo considero un disvalore, perché c'è già lo specchio dei tempi per quello, ma io sono per la memoria. E tu sei un militante non pentito, giusto? Come? Tu sei un militante non pentito. Sono militante del PC, non pentito, critico di fatti nel mio libro, anche con un tocco di ironia, tante cose bagianate, errori del Partito Comunista italiano. Non dimentichiamo mai, non parliamo del socialismo reale che ha stuprato il nome comunismo, ma è uno dei primi comunisti, adesso non per fare della polemica, Gesù di Nazareth, cos'era? Non Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, che io purtroppo non sono credente, non sono nemmeno ateo, però ho una grande ammirazione per quest'uomo che fece una rivoluzione, fece una rivoluzione pacifica. Se uno rilegge oggi i Vangeli, trova, ma perché? Ama il tuo prossimo come te stesso, ma ti pare che oggi si ami il prossimo come noi stessi? Senti, il filosofo francese Paul Ricoeur, parlando del comunismo, disse che è una grande promessa non mantenuta. Non sono d'accordo. Perché? Perché il comunismo ha una grande promessa, se tu lo vedi nella rivoluzione d'ottobre e nel cosiddetto socialismo reale. La rivoluzione d'ottobre fu importante comunque. Ma certo, la rottura, chi ti ha dato il segno, anche se è avvenuto in modo cruento. Io non sono per i metodi, quando parlo con i giovani, la rivoluzione, anche qui nell'Ampi adesso, che ho questo incarico di presidente regionale dell'Ampi, quando sento dire bisogna fare la resistenza, non so, anche in riferimento alla vicenda della TAV, per la non violenza, primo, primo. In secondo luogo la rivoluzione, come diceva, adesso cito un altro, il cardinale Pellegrino. Quando è morto mi telefonò un collega della stampa e mi dice, Novelli, dimmi in tre parole secondo te chi è stato Pellegrino. Io ho detto, il professor Pellegrino è stato un rivoluzionario, perché in questa città ha fatto delle cose che ha rivoluzionato, ha cambiato, pensa solo, ha abolito i treni per l'urto pagati dalla FIA, è andato in Duomo alla visita del primo maggio a dire che coloro che non partecipavano all'azione di solidarietà, cioè i crumiri, e c'era addirittura il premio antisciopero della FIA e lui ha detto, non hanno, non devono godere dei benefici che ne derivano da questa azione. Guarda, abbiamo parlato di Gesù, di Vangeli, del cardinale Pellegrino, quindi vediamo la seconda fotografia e tu sei qui con Paolo VI. Giovanni Maria Montini, Papa dal 1963 al 1978, ricordiamo alcune cose, portò a termine il Concilio Vaticano II, diventò Paolo Mesto con l'enciclica Umane Vite per via delle polemiche sul controllo delle nascite e la contraccezione e durante il rapimento di Aldo Moro nel 1978 si rivolse agli uomini delle Brigate Rosse per chiedere, senza condizioni, la liberazione dello statista. Ecco Diego, che Papa è stato Paolo VI? Ma vedi, sempre come curioso, come giornalista curioso, io sono un giornalista curioso, non petteggolo, detesto i minzolini, detesto le rubriche, il retrosena, che purtroppo adesso tutti i giornali ce l'hanno. Per me Paolo VI è stato con Giovanni XXIII, ma per certi versi, su un filone più intellettuale di quanto non avesse Giovanni XXIII, il pontefice più importante degli ultimi cent'anni, molto più di Giovanni Paolo II, che aveva una grande capacità mediatica, aveva una grande capacità di rapporto, mentre Paolo VI era un po' questo aspetto un po' eratico, questo aspetto molto riservato, ma però lui è quello che mentre la curia rumana festeggiava, che era l'inventore del concilio Vaticano II, e speravano gli Ottaviano, i Siri, che si mettesse una pietra sopra, e lui ha detto no, il concilio va avanti e l'ha portato a termine, quindi è un grande Papa.